Il titolo del mio video è molto chiaro, vi avevo promesso un video che riguardasse un giocatore plausibile, ho scritto, per la prossima stagione e quando da casa Milan mi dicono plausibile vuol dire tanto. Seguiamo ovviamente da appassionati di calcio questa sera Juventus Porto, ma da appassionati di Milan seguiamo bene, svisceriamo ogni secondo della sua partita del numero 25 Otavio, perché Otavio è un giocatore che interessa al Milan, Otavio è un acquisto plausibile per la prossima stagione. È il numero 25 del Porto, gioca esterno a sinistra, però nel Milan vorrebbe anche cercare di impostarlo come, oltre che aver la possibilità di giocare nel 4-2-3-1 a sinistra, anche come vice o alternativa che è più bello di Cialanoglu, se come tutti ci auguriamo il vecchio Ciala rimane, Ra rimanga al Milan. E dunque Otavio potrebbe essere l'ideale soluzione dietro la punta per le sue caratteristiche di football spettacolare, elegante, vivace, sa unire da giocatore moderno la corsa, la vivacità, l'intensità ma anche dalla scuola brasiliana. Dicono che possa assomigliare per un nome, per ricordare un nome che tutti voi certamente rammentate, Oscar, il giocatore brasiliano che è stato uno dei protagonisti del Brasile degli anni scorsi. E dunque Otavio va seguito per capire così, per incominciare ad ammirarlo. Io ricordo quando ci fu tanti e tanti tanti anni fa il match tra il Paris Saint-Germain in Coppa dei Campioni, si chiamava ancora così, in Coppa dei Campioni tra il, anzi era già Champions League, tra il Paris Saint-Germain e il Milan e giocava UEA nel Paris Saint-Germain che sarebbe arrivato poi l'anno dopo nel Milan. Ero eravamo curiosi di vedere, ricordo un colpo di testa, la gran parata di Sebastiano Rossi, ma questo è il passato. Veniamo al presente, dobbiamo seguire Otavio, acquisto plausibile, uno degli acquisti di qualità. È un giocatore internazionale, 26 anni, parametro o meglio costo zero. Molto importante anche questo, non rinnova con il Porto, Sergio Concei Sao stravede per lui, ma cerca forse avventure nuove, esperienze nuove. Arriva al Milan nel pieno della sua carriera, 26 anni, giocatore abituato a giocare in Champions League, abituato ai grandi palcoscenici perché il Porto è una squadra da Champions League, ormai ha una tradizione inveterata nella Champions League e quindi seguiamo questo giocatore che ovviamente sarà uno dei punti di riferimento del Porto nei duelli di centrocampo questa sera contro la Juventus. Ma veniamo al Milan, non veniamo al Milan del futuro, veniamo al Milan del presente. La buona notizia è che Teo si è allenato in gruppo, ci sono buone, eccellenti possibilità, dunque che ci sia un recupero per il giocatore francese e dunque Teo Hernandez allenandosi in gruppo speriamo proprio che possa essere convocato domani quando il Milan partirà dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli. Chi con Teo verrà recuperato? Tonali certamente, dobbiamo capire bene se il Milan riuscirà a recuperare Rebic che oggi ha effettuato ancora un allenamento personalizzato. Dunque anche per Rebic qualche possibilità di averlo sull'aereo in partenza per Manchester ma non ci sono sicurezze in questo senso. Ribadiamo che Mandzukic dovrebbe essere disponibile almeno per la panca contro il Napoli, ci auguriamo, mentre per quello che riguarda Celanoglu a me risultava che fosse un po' lontano il suo recupero, però a sentire i colleghi, altri colleghi mi dicono che avrebbe potuto addirittura essere a disposizione nel match contro il Napoli, potrebbe essere a disposizione nel match contro il Napoli, è tutto da valutare anche questa situazione, però se incominciamo a recuperare almeno per il ritorno col Manchester e la partita con la Fiorentina 3-4 dei giocatori assenti nelle ultime partite, beh sarebbe già importante. Vado anche a sottolineare che visto che domani insieme a Pioli parla Tomori, di solito c'è la tradizione che chi parla alla vigilia è titolare il giorno dopo, quindi mi auguro proprio che di non sbagliare in questo senso l'indicazione, dovrebbe essere Tomori con Chier più che con Romagnoli, serve un giocatore ovviamente rapido, intenso, contro la rapidità e l'intensità del Manchester in questa parita che si sta avvicinando sempre più affascinante, sempre più importante, sempre più palpitante da vincente. Quindi domani l'allenamento sarà decisivo per capire se poi Teo possa essere veramente in partenza coi compagni domani, dopo questo allenamento in gruppo, capire anche le sue reazioni, visto che aveva dolore alla testa del Peroni. Veniamo a un ultimo punto, leggo, sento, ascolto, si parla di partite perfette, ecco per i tifosi del Milan le partite perfette sono quelle come quella del 19 aprile 1989 dove il Milan batte 5 a 0 il Real Madrid. Le partite perfette sono quelle come quella del 2007, l'incontro con il Manchester del maggio 2007, quando il Milan segna con Zederov, con Kakà, con Gilardino. Ecco queste per il tifoso del Milan sono le partite perfette dove dà spettacolo, dove regala emozioni, dove comanda la partita. Perché il Milan del dopoguerra è figlio del Grenoli, della classe di Gunnar Gren, della classe di Mills Lidlm. È il Milan ereditato poi da Gianni Rivera che ha incantato le platee di tutto il mondo, le tribune, gli stadi di tutto il mondo. È il Milan di Schiaffino, altro giocatore sublime, giocatore di classe. Il Milan dai tempi di Trabattoni, che era il presidente dei metà anni 40, ha smesso di essere la squadra garibaldina dei difficili anni 30. È diventata una squadra di classe, di stile, di predominio, di eleganza. Per noi quelle sono le partite perfette. Sono il 4 a 1 contro l'Ajax, dove il Milan ha dominato. Quella è la partita perfetta. Il Milan ha questo imprinting, squadra che vuole giocare, vuole divertire. Poi ci sono gli interpreti che possono più o meno far divertire, possono regalare più o meno emozioni. Ma l'imprinting, la Grif, è di una squadra che vuole comandare il gioco e Pioli ha capito benissimo questa filosofia del Milan. Questa strategia che a volte può portare magari a qualche sconfitta, ma l'atteggiamento è fondamentale. Il Milan è quello di Schiaffino, di Rivera, di Kakà, di Rui Costa. E questo Milan oggi è il Milan che vuole proporre, che vuole regalare emozioni. Non è un Milan sparagnino. Chiaro, poi quello che conta indubbiamente è vincere. Ma la strada del Milan per vincere è la strada del bel gioco, dell'atteggiamento propositivo. E mai ricorderemo una partita perfetta se il Milan vincesse. Ecco, per esempio, noi non ricordiamo la partita perfetta che ci ha permesso di vincere 1-0 e portare a casa, io c'ero a Salonico, la Supercoppa del 73. Il Leeds ci mise là e solo i miracoli di William Vecchi, oltre che la punizione di Chiarugi, permise al Milan di vincere quella partita. Ma non la ricordiamo. La ricordiamo con il cuore perché abbiamo alzato un'altra Coppa, la Supercoppa europea prestigiosa. Ma non la ricordiamo come la partita perfetta. Per i tifosi del Milan le partite perfette sono altre. Sono il 5-0 con il Real Madrid, sono il 3-0 contro il Manchester. Questa è la filosofia del Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrante.